I sette tipi di persone che non si possono aiutare, come riconoscerle e gestirle. Oggi parleremo dei sette tipi di persone che è molto difficile, se non impossibile, aiutare. Le vittime. Queste persone si sentono costantemente sconfitte e impotenti, ma non sono disposte a fare nulla per cambiare la loro situazione. Puoi offrire loro tutto l'aiuto che vuoi, ma alla fine della giornata non saranno in grado di cambiare nulla se non cambiano prima il loro atteggiamento. Le persone egoiste. Queste persone sono troppo concentrate su se stesse per preoccuparsi degli altri. Non importa quanto tu provi a essere gentile con loro, continueranno a cercare solo il loro interesse personale e non si prenderanno mai cura degli altri. Le persone ingannevoli. Questi individui non sono onesti e non sono disposti a fare la cosa giusta. Non importa quanto tu cerchi di aiutarli, continueranno a cercare di trarre vantaggio dalla tua buona volontà. Le persone disperate. Questi individui possono sembrare che abbiano bisogno di aiuto, ma in realtà sono così disperati che finiscono per trascinare giù chiunque e cerchi di aiutarli. Devi stare attento a non diventare tu stesso una vittima della loro disperazione. Le persone sleali. Questi individui non rispettano la tua fiducia e non sono affidabili. Non importa quanto tu cerchi di aiutarli, non sarai mai in grado di fare affidamento su di loro. Le persone dubbiose. Queste persone sono costantemente in conflitto con se stesse e non sono sicure di ciò che vogliono. Puoi offrire loro consigli e supporto, ma alla fine devono essere loro a prendere le decisioni importanti. I rinunciatari. Queste persone sono troppo disposte a mollare le cose e non sono disposte a fare il lavoro duro necessario per migliorare la loro situazione. Puoi offrire loro tutte le soluzioni che vuoi, ma se non sono disposti a impegnarsi, non saranno mai in grado di migliorare la loro vita. Se conosci persone che rientrano in una di queste categorie, non ti arrendere, ma non cercare di forzare la situazione. Cerca di essere presente per loro e offri loro supporto emotivo, ma non aspettarti di risolvere tutti i loro problemi. Grazie per aver guardato il video.